Se ci sarà un closing potrà verificarsi ormai soltanto dopo la fine del campionato. Con queste parole è intervenuto l'imprenditore Gioe Tacopina che ha rotto il lungo silenzio per aggiornare tutti sullo stato della trattativa per l'acquisizione del Catania. Il previsto closing di fine aprile è saltato ed ancora manca l'accordo anche con il comune di Masca Lucia con cui si sarebbe dovuto perfezionare il contratto preliminare firmato con Tacopina per il passaggio del pacchetto azionario del club. L'avvocato italo-americano vuole la riduzione del debito ma la chiusura dell'affare, come ha ribadito anche qualche giorno fa, era legata proprio all'accordo con Agenzia delle Entrate e Comune di Masca Lucia. Ero pronto a chiudere il 26 aprile, ha scritto Tacopina, e avevo provato di possedere i fondi necessari ma Sigi non era pronta per procedere perché non possedeva i molti documenti richiesti, incluse le certificazioni attestanti la riduzione del debito. Non ho ricevuto i documenti, ha poi proseguito l'italo-americano, né il 16 aprile né il 26 aprile. Non essendo Sigi riuscita a soddisfare le clausole contrattuali, ha poi spiegato, ed essendo così tecnicamente impedita la chiusura, siamo costretti a recedere dal contratto firmato a gennaio.